Ciao a tutti ragazzi, sono Mattex e bentornati qui sul mio canale con un nuovo episodio della nostra carriera di autore con il Venezia. Quanto mi mancava dire questa frase, siamo tornati effettivamente in live. Per voi la carriera in realtà non è cambiata tantissimo, giusto qualche episodio in meno, ma c'è sempre stato il Venezia, ma noi riprendiamo a registrare quest'oggi, ossia lunedì, voi vedrete questo episodio il mercoledì, quindi mi raccomando recuperatevi intanto le live sul canale Viola e innanzitutto, soprattutto, anzi, il video di lunedì è uscito il Best Moments, delle clip di novembre e dicembre, primo Best Moments di quest'anno, quindi mi raccomando vi invito a recuperarlo. Quest'oggi vedremo un po' di partite perché ci porteremo un po' avanti, ragazzi ci siamo persi qualche episodio nell'ultima settimana, andremo avanti con Genoa, Cagliari, Roma, Salernitana, Udinese e penso anche Sassuolo. Credo di andare a simulare le gare con Genoa e Salernitana di sicuro e poi vediamo effettivamente se giocarci quella con Cagliari, quella con Roma e quella con Udinese e fare eventualmente Sassuolo e Milan nel prossimo episodio, questo lo vedremo in corso d'opera. Grazie per il follow Edo, benvenuto, benvenuto, come stai, come va e buon anno, e buon anno, buon anno. Ragazzi, la classifica è questa, siamo quinti con 38 punti, 21 partite fatte, ci tocca adesso il Genoa, Genoa che andremo a simulare quest'oggi, Pululu tra i migliori marcatori. Vi ricordo, per chi si fosse perso gli ultimi episodi, per quanto riguarda il calciomercato siamo in realtà messi abbastanza bene perché abbiamo piazzato gli ultimi colpi, abbiamo preso Fagioli in questa sessione di mercato, abbiamo preso Zaccagni in presito dalla Lazio, poi arriveranno Bartra e Ed Cialawi nella prossima stagione, quindi questo sarà il nostro mercato, poi anche futuro in realtà. Abbiamo un colpo lì, che non lo so, io terrei lì finché non ci vanno a dire, guarda te, se ne sta per andare. Juan Quadrado, Giovanni il Pitagora, 79 di overall, 34 anni e ancora abbastanza un buon giocatore, è al Barcellona, quindi potrebbe venire in Italia a chiudere la sua carriera, non lo so, vediamoci, pensiamo. Intanto la formazione è questa, andiamoci a simulare la gara contro il Genoa, simulazione veloce, spero in risultato positivo, quantomeno un pareggio che non arriva, che non arriva. Arriva la sconfitta contro il Genoa, al novantesimo ci purga Caicedo, ormai è una maledizione Caicedo, Caicedo è una maledizione. Intanto andiamo avanti e pensiamo alla prossima partita e alla fine del calciomercato. Offerta per Jonsen dal Norwich. Offerta per Jonsen, ci potrebbe anche stare, ci potrebbe anche stare, però io rifiuterei, perché aspetterei la prossima stagione. Siccome questa qua è un po' una stagione transitoria, cioè che ci porterà dall'essere una squadraccia, potenzialmente come abbiamo iniziato questa stagione, ad essere comunque una buona squadra. Peraltro, Alderweire al Real, ok. Aramuno non si muove, non si tocca. Eccolo, l'ho chiamato. Aramuno non si tocca, quindi rifiutiamo l'offerta dal Borussia Mönchenglavak. E dicevo, queste offerte qua comunque le valuterei poi a fine stagione, comunque all'inizio della prossima. In modo tale da vedere il budget che avremo e soprattutto capire in realtà cosa vorremmo fare, perché ci servirà sicuramente un portiere molto forte. E qualche upgrade in giro per la formazione. Offerta per Tesman anche, ci stanno chiedendo vari giocatori. Tesman lo rifiuto perché Tesman è uno di quelli che può crescere. A differenza di Jonsen, che ha un po' meno potenziale, Tesman è un pochino di più. Quindi, valutiamo. Oh no, ma ti età la samp. Offerta per Carboni che rifiuto. Stesso discorso di prima, comunque Carboni difficilmente si muoverà da Venezia. Ragazzi, un giocatore veramente molto forte, ci stiamo trovando davvero bene. Tra l'altro Balogun all'Inter. Finiscono qui le ore di calciomercato. La Juventus cede Dragusin, Ramsey e Fagioli. Fagioli a noi. Quindi, bene così, bene così. Mi ritengo abbastanza soddisfatto in realtà del calciomercato che abbiamo fatto. Offerta per Akinfiev dall'Ellas. Partirebbe poi la prossima stagione, però ragazzi, io Akinfiev non lo toccherei. Non lo toccherei, sinceramente. Aggiornamenti vari dagli osservatori. Abbiamo Pasuke. Mi dispiace Pasuke, ma... Vai a succare da un'altra parte. I fratelli Arma pure. Rebane. Possiamo... Possiamo continuare a seguirlo. Sepanen. Buono, avrò l'iniziale. Potenziale abbastanza scandaloso, quindi lo rifiuterei. Sepanen il fratello. Asma è un giocatore un po' asmatico, ma... Ci può stare. Con un 85 può fare bene l'ATT, secondo me. Tra l'altro, se quelli sono le sue statistiche... Abbastanza... Erasmus... Ilves... Sembra buono. 700.000. E arriva. Io questi due qua li seguirei ancora, li seguirei ancora, che sembrano abbastanza scandalosi in realtà, però vediamo. Qua in realtà c'è proprio poco. C'è giusto questo Lauwers. Per il resto rifiuterei abbastanza tutti. La classifica ci vede Sesti, con 38 punti. Sconfitta Amara, quella contro il Genoa. Ma soprattutto per la simulazione in realtà, perché può arrivare una sconfitta, può arrivare una partita storta, ma simulando fa ancora più male. Cercheremo di portare a casa 3 punti. Pululu sempre in cima alla classifica amore cattori con Venticol. Speriamo ne faccia altri. Torniamo in campo con il Cagliari. Oggi Cragno tra i pali. Volguchiewicz, Cepitelli, Lineart i 3 di difesa. Centrocampo Nandes, Marin, Odin e Keita Valde. Larin sulla tre quarti. Due d'attacco formato da Gio Pedro e il ciolito Simeone. 3-4-1-2, formazione a specchio. Quella del Cagliari, nei nostri confronti, ovviamente Venezia, che torna in campo dopo qualche settimana di live. Di episodi invece sono rimasti sul canale. Vi ricordo di recuperarvi quelli che magari vi siete persi nel periodo natalizio. Questa è la formazione del nostro Venezia. In portamento a Kinfiev a difendere la squadra. Lovato, Davidoviz e Carboni. Centrocampo con Fagioli, Mbuku, Raskin e Haps. Debuto per Fagioli da titolare. Zaccagni sulla tre quarti. Edo d'attacco formato da Pululu. Ed Esposito. Comincia. Cagliari contro Venezia. Buona partita. Aspetta Pululu. C'è Zaccagni. Pululu. Palo. E poi Cragno. Ci mette le mani. Ferma il pallone. Zaccagni al volo. Cragno, Cepitelli. Poi Pululu. Calcio di rigore. Calcio di rigore. Vediamo il braccio di Cepitelli due volte. E quindi Esposito contro Cragno. Prova Esposito. Traversa gol. 0-1. E il Venezia trova il vantaggio. 1-0. Che poi mostro che lo dico e prendo gol. La squadra mi sembra girare. Anche con Fagioli al centro. Un po' più lentino rispetto magari agli altri. Però sta facendo bene. Grossa al centro. Gio Pedro. Ecco l'1-1. Ecco il pareggio del Cagliari. Ci mette la firma. Gio Pedro. Che poi fa lo sborone. Gioca tra i più forti del Cagliari. Numero 10. 1-1. Gollettino. Dicevo Pedro. Così. Dal nulla. 2-1. Vai Aps. Quanti ne salta Aps. Quanti ce ne sono. Aps deve tornare indietro. Deve trovare un uomo libero. C'è Zaccagni. Poi c'è Fagioli. Visto. Serve Pululu. Centrale. Cragno in calcio d'angolo. Odin. Nandes. Simeone. A chi mi finisce il calcio d'angolo. Raskin. Mette giù Esposito di nuovo. Può allargare per Zaccagni. Vede però prima Carboni. Zaccagni. Non resta lì. Pululu. Salva sulla linea Cepitelli. Probabilmente finirà su questa azione la partita. Nandes finisce qui. 2-1. Il Cagliari trionfa. Momento no per il Venezia. Due sconfitte consecutive. Fa male un po' di ruggine. Forza Mr. Mattex. Allora possibile cambio di ruoli per Rutli e per Pogliani. Rutli passa da C.O.C. A.D. Cambia veramente poco. Perché diventa un 48. Io gli aumenterei questo. Un po' di velocità. Un po' di piede debole. Pogliani da A.T.D. A.D. Non cambia niente ragazzi. Mi sa che lui potrebbe farci un gran saluto. Dicevamo classifica che ci vede settimi. Con 38 punti. Siamo a meno 2 dal Cagliari che ci ha superato con l'ultima vittoria. Due sconfitte consecutive del nostro Venezia che sicuramente fanno un po' di arriginamento di Mattex. Del fatto che appunto era qualche tempo in realtà che non giocavo più. Quindi bisogna rimboccarsi le maniche. Affrontare la Roma. Poi simuleremo la gara contro la Serenitana. E affronteremo per ultima l'Udinese. Poi chiuderemo l'episodio. Speriamo in 3 punti. Speriamo almeno in un pareggio contro una Roma che in realtà non sta facendo benissimo. 29 punti sotto di 9 da noi. Quindi cerchiamo di portarci a casa una buona prestazione. Soprattutto di ritrovare un po' la nostra condizione. Roma contro Venezia. Lui Patricio tra i pali. Della squadra Gelo-Ross. Vigna, Smalling, Rosier, Denaye. In difesa. Centrocampo El Chalawi con VR. Linea 3. Formata da Brandt. Cristante. E in barba. Unica punta. Tammy Abraham. Un El Chalawi usato come centrocampista centrale. Penso poi in game si andranno ad invertire lui e Cristante. Con che faccia ce lo sta dicendo El Chalawi. El Chalawi che arriverà poi a Venezia. Alla fine della stagione. Contattato a parametro 0. Lui ha accettato l'offerta. Dunque sarà uno dei nostri titolari quest'oggi tra i pali. Ovviamente a Kinfiev. Difesa 3 che cambia con Schnegg. Davido Vizio e Lovato. Carboni quest'oggi riposa. Raskin, Busio, Mbuku e Daps a centrocampo. Con Aramu sulla tre quarti. E due d'attacco ovviamente formato da Sebastiano Esposito e Pululu. Pululu che sta ricercando il gol perché non ha più trovato la rete. Vediamo se quest'oggi riuscirà a portare punti per istruzione. Buona partita. Buku, Esposito, Aramu. Buona palla per Pululu. Pululu va col macino. Pululu! Lui Patricio si allunga. Calcio d'angolo. Buku mette giù. Salta l'uomo. E va al cross. Al centro c'è Pululu che prova a intervenire. Non riesce ancora a staccare. Poi Busio. Mette giù Raskin. Pululu può andare. Col giro. Pululu. Tiro a giro. Infallibile. Di Pululu. Che torna a segnare. Lo fa contro la Roma nel momento più difficile. E più del bisogno per il Venezia. 1-0. E in barba. Attenzione a Brandt. L'inserimento. Le spalle da difesa. Brandt. Largo per Cristante. Calcia. E 1-1. Roma che pareggia i conti. Con Cristante. Utilizzato in questo modo. In maniera offensiva. E dà i suoi frutti. 1-1. Andrà al cross. Marcato ad Abbs. Rosier. Al centro. Abram. Attenzione a 45esimo. E il Cerawi. Abram. Si dimentica. Il modo in cui si farà. Anche in Fieva. E la Roma va in vantaggio. 2-1. Cross al centro. Esposito. La palla resta lì. Mbuku. Fallo di mano. Probabilmente di Denayet. Che qui protesta. Al fondo di mano. È evidente. Calcio di rigore. Ancora Esposito. Sul dischetto. Non cambia lato. E va. Esposito. 2-2. Ancora. Sebastiano. Esposito. Tazzina. Con Super. Con Abbs. 2-2. Mbuku. Vede Esposito. Bella la palla di Mbuku. Per Esposito. In cerca del gol. Esposito. Gol destro. Una bomba. Però centrale. Rui Patricio. In calcio d'angolo. E il Cerawi. Dietro. Brandt. A Kimfiev. E poi Schnegg. Si guadagna. Anche un calcio di punizione. Via. E il Cerawi. Di tacco. Cristante. Chiude Kozlovski. La palla resta ancora lì. Mkhitaryan. Brandt. Palla fuori. No. L'ho passata. Mannaggia a me. Che tocco. Che clicco. Che palle. Dentro Jonsen. E mettere. Santos. Al posto di Esposito. Pallonetto fatale. Di il Cerawi. Mkhitaryan. Shomurodov. Si allunga Kimfiev. La palla finisce sul palo. 4-2. Palla per Santos. Sono delle ultime azioni. Proprio per il Venezia. Santos. Col mancino non sbaglia. 4-3. La riapre. Forse. Al novantesimo. Perez. Traversa. Poi Cristante. La palla resta lì. Kimfiev. Mette giù. Ma finisce qui. Roma-Venezia. 4-3. Non è cosa oggi. Non riusciamo più a vincere. E ancora 0 punti. Possibile cambio di ruolo per Depau. Eccolo qua. Che passa da C.O.C. A dalla sinistra. E non cambia. Granché. Resta un 63. Direi di migliorargli il piede debole. E un po' di velocità. Civica ci vede settimi con 38 punti. Siamo fermi lì da tre partite. Dobbiamo ingranare di nuovo perché ragazzi siamo a 4 punti adesso dalla zona conference. Non voglio dire addio sinceramente all'Europa quest'anno. Però ben potete capire che è dal 22 dicembre che non tocco la carriera. Quindi un po' di ruggine sicuramente c'è. Simuliamo la gara contro la Salernitana. Sperando in una vittoria che arriva. Tre punti. Raskin, Santos e Mbuku. Tra uno bene. Offerta del Belgio. Squadra interessante ma anche qui rifiutiamo. Stesso discorso di inizio episodio. Aspetterei l'Italia. E adesso andrei ad affrontare l'Udinese. Ragazzi questa è una partita che dobbiamo vincere. Non ci sono alternative perché siamo noni in classifica. Con una vittoria ci porteremo 44 punti. È davvero importante questa partita. È davvero molto 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 importante. Con un Udinese in difficoltà. Diciassettesimo in classifica. Preparo la formazione perché qualcosina cambierà. E ci vediamo in partita. Si torna in campo dopo un periodo molto difficile per il Venezia. Si rivestita i pali per l'Udinese. Samir, Stark, Soppi. I tre di difesa. Bialek, Larsen, Riedewald, Ferri e Aska Sibarra. De Lofeo sulla tre quarti. Unica punta invece. Forestieri. Venezia che arriva da una vittoria. Quella contro la Salernitana. Partita simulata. Mentre giocate poi arriviamo da due sconfitte. Prima col Cagliari, poi con la Roma. Prima ancora col Genoa simulata. Quindi è un periodo che il Venezia sta faticando. Fatica Mr. Matex. Fatica la squadra. Ne risente ovviamente la classifica. Plizzari tra i pali. Lovato Davidoviz e Carboni. I tre di difesa. Centrocampo invece. Aps, Raskin, Blanco. Torna. Embuku sulla destra. Aramu sulla tre quarti. Doe d'attacco che non si modifica. Esposito Pululu. Uniche due. A meno per questo episodio certezze del Venezia. Comincia. Udinese contro Venezia. Buona partita. Aps, Esposito. E trovare uno spazio per esterire Pululu. L'ha trovato. C'è anche il corridoio per Aps. Pululu però aspetta. Blanco da fuori. Destro! Eccolo qui il destro di Blanco. Torna a titolare. Torna al gol. 0-1. Venezia in vantaggio. E che gol! Crossa al centro. Carboni stoppa. E fa ripartire Aramu. Pululu. Dall'altra parte c'è Esposito. C'è anche Aps. Pululu però preferisce andare sulla destra. E servire Aramu. Blanco. C'è un buco che chiama. Servito. Un buco. Le finte. Susamir. Salta all'uomo. Ancora un buco. Pu andare al centro. Aramu. Pululu. E l'azione si chiude. Con questa esultanza. Affimico Pululu. 2-0. Forestieri. Centrale. Preciso. Blizzari tiene le mani giù. E 2-1. Linese segna. Forestieri. Deulofeu. Centrale per Blizzari. Bravo Carboni. Raskin. Non c'è praticamente nessuno. Raskin va da solo. Deve guadagnarsi qualcosa. Si guadagna tempo, spazio. E palla per Zaccagna. Al centro c'è Pululu. La chiude. Affimico. Pululu. 3-1. Finisce qui. Udinese Venezia. Vince il Venezia. 3-1. Torna la vittoria anche sul campo. Una vittoria. Ragazzi. Importantissimo. Era il nostro cammino in campionato. Servivano davvero 3 punti. Perché abbiamo perso lo scontro con la Roma. Lo scontro col Cagliari. Servivano a dei punti. Abbiamo recuperato qualcosina con la Salernitana. Serviva poi a recuperare anche sul campo. Questa è la dimostrazione. Abbiamo fatto una grandissima partita. Lottando contro lo script. Ragazzi. Guardiamoci chiaro. Gran partita. Gran afimico Pululu. Che torna a segnare. E anche bene. Doppietta per lui. Un gol incredibile di Blanco. Ha reso conto disponibile. Abbiamo Valk. Sembra interessante. Quindi c'è ne buono. Asmae. Anche lui sembra abbastanza buono. Potenzione non altissima. Ci si può lavorare. E per il resto ragazzi. Giocatori abbastanza da dimenticare. Qualcuno col valore un pochettino più alto. Potenzione molto molto basso. Dal Belgio. C'è giusto questo Pierre De Witt. Proviamo a scartare qualcuno. Vabbè. Routry. Ci fai un gran salutone. Casa Dei. Ci fai un gran salutone. Big salutone. Anche per Pogliani ragazzi. Cioè va bene 5-5. Ma è scandaloso. Un saluto anche Reufi. Che dovrebbe passare a C o C. Ma non lo so. Ovvio è tremato tutto. Anche Gagnon. Non dovrebbe passare a C o C. Lo stiamo aspettando. Cancio ragazzi. Non cediamo. Non ha senso. Mi focalizzerei un po' su Jackson. Poi. De Pau. Per il resto. Per il resto. Cioè. Routare lo otterrei per il meme. Routare lo otterrei per il meme. E prenderei questo Pierre De Witt. Per il resto ragazzi. Salutoni e bacioni. Ci vediamo alla prossima stagione. Onestamente. Proseguiamo in avanti anche con i nostri allenamenti. Andiamo verso la gara col Sassuolo che concluderà questo episodio. Eccoli qua i cambi ruolo. Abbiamo chiamati. Per Umberto Rossi che passa da difensore centrale a Cdc. E non cambia assolutamente una ceppa di niente. Ma assolutamente nulla ragazzi. Proprio zero. Zero totale. Vabbè. Gagnon. Passa da T a C o C. E non cambia niente. Ragazzi ho una di piede debole. Regista avanzato. Proviamo a mettergli un po' il piede debole. Siamo giunti dunque. Alla fine di questo episodio. Nel prossimo vedremo le gare con Sassuolo, Milan, Spezia e Torino. Sicuramente. Vedremo se eventualmente farci anche quella con l'Elas Verona. Ma dipenderà anche un po' da come andrà questa partita di stagione qua. E poi ragazzi siamo lì. Ormai siamo quasi giunti al termine di questa stagione. Pochi episodi. E saluteremo anche la seconda di stagione con il nostro Venezia. Classifica attualmente ci vede Ottavi. Con 44 punti. Però abbiamo una partita in meno rispetto a Fiorentina-Lazio. E rispetto al Cagliari. Quindi con una vittoria potremmo andare a 47 punti. Superando Lazio e Fiorentina. Superando anche l'Inter. L'Inter tra l'altro avrà il derby con il Milan. Siamo un pochino più lontani invece rispetto alla prima posizione in classifica. Però ragazzi non è quello il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è qualificarci per l'Europa. Tra l'altro diamo un'occhiata anche alla Coppa Italia se c'è già la finale. Finale Inter-Milan. Io spero che vinca l'Inter. Perché così potremmo giocarci anche il settimo posto. Qualora non riuscissimo a fare di meglio. Pouloulou resta il miglior marcatore per adesso della Serie A con 23 gol. Io vi ringrazio per aver visto questo episodio. Vi ricordo tutti i link qui sotto in descrizione del video. Gruppo Telegram, server Discord, mio profilo di Instagram, canale Twitch. Tutte le cose trovate qui sotto nella descrizione. Ci vediamo alla prossima sempre qui sul mio canale. Un bacione, un salutone. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.